In questi giorni tiene terribilmente banco la questione ILVA e si parla di varie ipotesi, la chiusura, la riconversione, la prosecuzione dell'attività del siderurgico. Quest'oggi sono in barca, siamo nelle vicinanze del ponte Girevole. Io sono innamorato di questa città e ora più che mai sono convinto che l'ILVA va chiusa senza sé e senza ma. Altro che giri di parole, riconversione, no no, inutile che ci giriamo, chiusura, chiusura e poi si riconverte. Intanto si chiude il rubinetto, si spegne l'interruttore. È ovvio che non si può spegnere così in un momento, in un attimo, ma comunque si deve decidere di chiudere la struttura, punto e basta. Mi domando, molti hanno paura perché dicono, ecco, e allora se chiude dove vanno a mangiare gli operai? Vengono a mangiare a casa tua? Ma oggi mi sto sfogando, tra virgolette, perché contemplando, toccando da vicino la risorsa mare, io dico abbiamo delle potenzialità e delle risorse infinite per potercene, passatemi l'espressione, fottercene dell'ILVA. Questa è la verità. Sfruttando il settore, il comparto della mitilicoltura e tutto quanto annesso e connesso, il discorso relativo al turismo e quindi alle strutture ricettive, ma potremmo dire di tutto di più. In altre parti d'Italia e in altre parti del mondo, quel mostro che uccide, l'avrebbero chiuso chissà da quanti anni, sfruttando queste risorse. Noi abbiamo queste risorse e non sappiamo sfruttarle. Non sappiamo sfruttarle anche per nostra formamentis, per nostra incapacità, ma soprattutto di chi ci ha amministrato a tutti i livelli. Non posso assolutamente condividere le bagianate che ha detto il Sindaco quando qua si vede Taranto con una vocazione legata all'ILVA. Assurdo, incredibile. E anche il Presidente Emiliano deve finirla di fare il doppio gioco. Bisogna avere il coraggio di dire chiusura. Anche i 5 Stelle. I 5 Stelle hanno detto di tutto di più. Sono partiti dalla chiusura, poi alla riconversione, poi alla chiusura programmata delle fonti inquinanti, poi alla chiusura programmata delle fonti inquinanti, riconversione. Ora si parla di ambientalizzazione, quindi continuare la produzione ambientalizzando. Un po' come Di Maio. Di Maio è ritornato alle posizioni di Renzi, in buona sostanza, dei decreti salva-ILVA. Ma al di là di questo, guardo questo bene, questa risorsa immensa del mare e dico, ma noi tarantini, tanto cretini siamo, scusatemi le espressioni, ma siamo tanto cretini. Abbiamo queste risorse e dobbiamo pensare a quel mostro? Guardatelo il mostro, guardatelo, guardatelo lì. Guardatelo. Guardate quel mostro che uccide e guardate invece per converso questa realtà che ci dà vita, che ci dà gioia, che ci dà entusiasmo. Questa mattina ho fatto un servizio giornalistico in cui non solo mi sono sentito fiero e felice della mia scelta di fare il giornalista, ma mi sono sentito ancora più tarantino e mi sono sentito ancora più combattente, combattente e combattivo. Lo dico senza mezzi termini e prego la telecamera di riprendermi in faccia. Chiudiamo il mostro e viviamo di mare, viviamo di storia, viviamo di cultura, viviamo di turismo, viviamo di agricoltura. Questa è Taranto, non il mostro che uccide. L'Ilva va chiusa, senza se e senza ma, senza giri di parole, caro Di Maio.